Panificio Caliendo Baccheri. Dal 1960 la tradizione continua con il sapore del pane di un tempo. Produzione e vendita diretta di pane fatto con lievito madre, panini a lenta lievitazione, freselle, tarali di pasta frolla, fantasia di pizze, pasticceria, rosticceria, fornitura per eventi e la buona gastronomia con menù fisso a pranzo. Siamo a Casa Nuovo di Napoli, via Arcora 63, nei pressi di Piazza Mafalda. Per consegne a domicilio, telefono 081 522 6129. Cercaci su Facebook.